Ciao a tutti! Oggi un nuovo progetto per il DTV Youplacraft, questa volta ho pensato di preparare un kit per una festa di halloween. Se state pensando di organizzare una festicciola, questo video potrebbe fare al caso vostro. Ho realizzato questo kit composto da una spilla, qui ho messo una scatolina piena di Smarties e sul retro ho fatto una tasca dove ho messo un mini album davvero piccolino giusto per inserire tre foto della giornata. L'ho pensato come un regalino di benvenuto da consegnare agli invitati per la festa. Bene, se quest'idea vi piace mi raccomando seguite il video! Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!